e la presa l'altro giorno è per quello aria dal beta il problema di quella roba qua è che se quello che ce l'ha la pianta lì di giocare di fare il ciro fa la fine dell'ossa qua è lo problema ma che per me da sotto è con piedi di quello che facevano ieri la eh ma quello di ieri era tutto zappellato poi quando l'ho provata io ha un motore che è esagerato ma non è neanche solo il motore è la trazione che ha che è uno spettacolo e quando li facciamo che bagniamo ha mollato l'arri se mollo la maglia ma adesso è un po' di unico guarda che è anche esciutto così come essere bagnato in discesa non è bello così infatti prima lo mi sono citato per terra quando è bagnato si qua fa due gocce d'aria sai dove facciamo un metro bravo e ma adesso seve con la polverina che c'è quando parti più indietro e a mano a mano che arrivi su ti tira avanti tu se tu guardi sei sempre con le braccia così ricorda oh c'è che arriva quando parti le braccia più lunghe perché così è il segno che c'è il culo più indietro invece tu sei sempre centrale la destra che è asciutta sei bagnata col cazzo che vieni su così devi stare più indietro poi quando arrivi in alto ti puoi tirare avanti a mano a mano però cerca di pesarla di più in fondo dai più indietro andiamo giù giù vai 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 no Antonio ma va non ce lo stare perché sono andati di là non ce lo stare non ce lo stare non ce lo stare non ce lo stare allora allora sei diventato scemo a scendere questo qua da o oh 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 che cazzo mica cosa ti sei perso 150 all'ora